che è venuto al componente di UGRAP a forza politica, perlomeno la furbizia di dire le stesse cose al collega Taccagnini che non entro nel merito, ma non si può usare queste discriminazioni e questa parzialità nel gestire l'aula. Allora, deputato Sannicandro. Per dire che lei si è comportata in modo molto preciso, perché un attimo è inutile che, piano piano, voi tutti ricorderete che ho sempre sostenuto che una cosa sono gli interventi di dissenso e una cosa sono i voti in dissenso e una cosa sono i voti a titolo personale, perché sono contemplati in due articoli diversi del regolamento. Quindi la Presidente Boldrini, io prendo atto con soddisfazione, che si sta comportando finalmente in questa maniera. Allora, bene, a questo punto, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante un procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 1990. Dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Pava. Grazie. Grazie.